Ciao ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere una partita con l'incrociatore premium sovietico di livello 10 Stalingrad. Sono in plotone con due membri del mio clan che portano rispettivamente lo Stalingrad e il Gearing. Dobbiamo affrontare un plotone formato da sole corazzate, tre in plotone, abbiamo fondamentalmente navi di livello 10, alcune navi di livello 9 e una nave di livello 8. Tre cacciatori perinieri, siamo nella mappa isole di ghiaccio, modalità supremazia. Come avrete letto molto probabilmente dal titolo, in questa partita andrò a stabilire il mio nuovo record personale per quanto riguarda i danni fatti in una singola partita. Decidiamo di andare sul settore di alfa, premetto che ovviamente stavamo comunicando tramite l'utilizzo del discord, quindi ogni singolo movimento che vedrete in questa partita sarà stato prima di tutto comunicato e quindi andremo a collaborare da questo punto di vista. Abbiamo una buona presenza sul settore di alfa, iniziamo subito a sparare qualcosa contro lo zao. La linea tra l'altro dello Stalingrad è qualcosa di fenomenale, è davvero un incrociatore bello esteticamente. Sapete che il mio preferito rimane comunque lo zao sempre e comunque, però lo Stalingrad pur non essendo alla prima posizione vi assicuro che si avvicina particolarmente. È una nave che sto utilizzando sempre di più in questi giorni, avrò fatto circa 20-25 partite, sono ancora molto poche, però ripeto, poco alla volta ne sto scoprendo sempre di più tutti i segreti. Davvero molto importante per poter giocare una nave nel migliore dei modi. Sul settore di Charlie, attenzione, cerchiamo di tenere anche d'occhio la situazione sul settore di Charlie, perché non c'è solo il settore di alfa. Date un occhio anche sulla minimappa per capire quello che sta succedendo e infatti possiamo notare che loro propongono, da quel che si vede al momento, una corazzata, anzi due corazzate, un incrociatore, un cacciatore per liniere che vanno ad affrontare un nostro cacciatore per liniere, un incrociatore e una sola corazzata. Su Bravo diciamo che la situazione non è così malvagia, al momento l'abbiamo cappato e adesso dobbiamo concentrarci però sul settore di alfa. Settore di alfa che è abbastanza pieno, abbiamo un Minotaur, Minotaur molto molto fastidioso, se dovesse stare dentro il fumo con le sue AP vi assicuro che fa molto molto male. Qui abbiamo anche, molto importante questa cosa, tre corazzate, quindi direi che abbiamo l'attacco ideale, i cacciatore per liniere davanti, gli incrociatori nel mezzo e le corazzate nelle retrovie. Davvero una formazione da sogno sotto alcuni punti di vista. Andiamo sulla Musashi, qui è molto importante cercare di attaccare tutti quanti lo stesso bersaglio per affondarlo il prima possibile. 5.940 più incendio, molto importante l'incendio. Tra l'altro, no dai ve la dico dopo questa cosa, andiamo a fare come detto un incendio che inizia a fare il suo sporco lavoro, cerchiamo anche di spingere sul settore di alfa per dare una maggiore spinta alla squadra in maniera generale, soprattutto per le corazzate che sono dietro di noi. Andiamo ancora con le HE e qui mi arrabbio, anche se non l'avete sentito, perché c'è qualcuno che mi chiama il fuoco sullo Zao o sul Minotaur. Ecco, sono chiamate che possono in qualche modo, come dire, distogliere il vero obiettivo in questo preciso istante, ovvero la Musashi che non si sta muovendo, rimane completamente ferma. Quindi è un bersaglio davvero ideale, soprattutto per le HE. Potremmo affondarlo in due secondi se tutti quanti, comprese le corazzate, iniziassero a sparare su di lui. Però come vedete, continuano, non so chi, a sparare le AP, si fissano con le AP e quindi vanno praticamente a fare zero danni e tutti rimbalzi. Noi cerchiamo ancora una volta con le HE di mettere fuoco, abbiamo fatto 25.000 danni in questi primi 5 minuti di partita. Abbiamo ancora le HE contro un Seattle, un crociatore di livello 9 americano. Vai, continuiamo anche a cappare, molto importante, cappare. Guardate quante navi siamo su Alpha, dobbiamo per forza di cosa spingere. Su Charlie la situazione è drammatica, questo è l'unico pensiero che mi viene in mente. Stanno spingendo contro un povero incrociatore in G9, che non può fare più di tanto. Infatti mi sa che viene timbrato dal loro incrociatore francese. Abbiamo poi una corazzata in H6 che sta provando una ritirata strategica disperata. Il punteggio al momento parla di 378 a 396. Siamo sotto di una nave. La Musashi sfortunatamente non sta bruciando. Guardate, sono ancora AP che cadono su quella nave. Ma chi è che spara le AP contro quella corazzata? Se avessero utilizzato le HE, soprattutto perché, vedete, appunto, l'incendio si appicca molto bene e fa danni devastanti. Dobbiamo spingere qui, ragazzi. Dobbiamo spingere. Molto importante è la comunicazione perché vado ad attivare il radar. Radar che viene utilizzato, ovviamente, una volta a testa. Non si utilizza mai in maniera nello stesso tempo. Quindi comunicazione sta alla base di tutto. Senza quella vi assicuro che sarebbe davvero un problema. Cerchiamo di evitare i siduri come possiamo. Cerchiamo di fare una bella virata stretta a sinistra. Perfetto. Non abbiamo tiro sulla Shimakaze, purtroppo. Il radar ha effetto per 30 secondi, considerando il modulo che ne garantisce una maggiore durata. Nuovamente spottato. Molto bene. Cerchiamo di chiuderlo. Perfetto. Shimakaze che va a chiudere la Shimakaze nemica. Dobbiamo chiudere, assolutamente, sia lo Zhao che il Minotaur che la Musashi. Qui dobbiamo avanzare, assolutamente. Una cosa molto importante adesso sono le corazzate. Corazzate che, a quanto pare, sono molto, molto lente e non capiscono la reale, diciamo, avanzata del nemico. Che adesso, come vedete, da Charlie si sta spostando su Bravo. Il nostro alleato Caccio d'Orpediniere, come vedete, sta cercando in qualche modo, e qui stavamo comunicando nuovamente, di rallentare la loro avanzata incessante. Qualche siluro, quindi si crea un muro e, in teoria, le corazzate dovrebbero rallentare un po', per guadagnare almeno qualche, si spera, minuto. Le corazzate nostre, guarda, cercate, lì è fondamentale rallentare l'avanzata su Bravo, veramente. Abbiamo davanti a noi il Minotaur, abbiamo messo le AP, attenzione, le AP fanno molto male. Vediamo se riusciamo in qualche modo a beccare lo Zhao nemico. Andiamo a fare solo 5.800, poco, poco. Qui dobbiamo fare come minimo la Cittadella, oppure la Kill. Andiamo a vedere, a spottare finalmente il Minotaur. Vediamo se riusciamo a fare una buona hit. Abbiamo fatto 30.000, triplo la Cittadella. Poi viene timbrato in maniera molto elegante dallo Stalingrad. Abbiamo sempre quello Zhao molto fastidioso che dobbiamo chiudere. Ragazzi, qui chiudere lo Zhao diventa molto, molto importante. Una corazzata sola sembrerebbe andare verso il settore di Bravo. Vedete la prua dalla minimappa come è rivolta. Solo una corazzata su tre. Una corazzata su tre, molto importante questa cosa. Anzi, ne abbiamo un'altra dietro. Un'altra dietro di noi. Ecco, adesso arrivano i colpi anche sul lato destro. Vedete la loro Yamato. Purtroppo ha una gittata che riesce a beccare le nostre navi che cercano ancora una volta di chiudere lo Zhao. Lo Zhao qui, purtroppo, ci fa perdere molto tempo. Devo essere sincero. Anche qui vedete che vado a mancare l'appuntamento con la Kill. La corazzata in C3 dovrebbe pensare alle corazzate su B. E invece si fissa anche lui sullo Zhao. Non è una cosa positiva perché, ripeto, quelli là stanno avanzando da un'ora. Stanno avanzando da un'ora. Abbiamo finalmente distrutto lo Zhao. Siamo saliti a 96.000 danni. Secondo me qualche hit in più si poteva fare. Si poteva fare. Qui in chat scrivo Vai tu! Che poi, tra l'altro, quel giocatore sarebbe... È stato distrutto. Qui, diciamo... Me ne ero accorto, ma non tanto. Era un po' una provocazione, tra virgolette. Però poi ho visto che, effettivamente, era stato distrutto. Andiamo contro la Yamato. Qui dobbiamo cercare, non so come, di fermare questa avanzata delle corazzate. Ripeto, loro sono tre giocatori in plotone, tre corazzate, e sono e stanno riuscendo ad avanzare senza problemi da Charlie a Bravo. Se noi avessimo avuto un plotone di corazzate, sicuramente le avremmo potuti fermare in maniera molto più efficace. Cerchiamo di continuare ad avanzare verso la Yamato. Abbiamo quella cacciator peniere in F4 che cerca di bloccare a quanto pare. Abbiamo la Shimakaze, due kill. Vediamo se qualche silur potrebbe dare una mano. Non abbiamo una gittata qui proprio perfetta, nel senso che Yamato, Jean-Barth, la Hindenburg... Su chi andiamo? La Yamato finalmente inizia a bruciare, cosa molto importante. Come vedete, noi stiamo per cappare il settore di Charlie, e qui diventa importante, ragazzi, i punti di cap molto importanti. Cercate sempre di averli sotto controllo. 2.970. Va bene. Abbiamo una corazzata in E1. E1 sarebbe, se ho visto bene, una Montana full vita. Una Montana full vita che doveva affrontare una corazzata inglese con 17.000 punti e un incrociatore francese anch'esso messo molto, molto male. Invece lui decide, guardate, totalmente, di ignorare la situazione che si viene a creare per andare non so dove. Qua scrive in chat nessuno aiuta la nostra Shimakaze. Eh, ragazzi, qui possiamo sparare ogni 17 secondi, mica ogni secondo. 119.000 danni, una kill sulla corazzata inglese. E adesso dobbiamo cercare di affrontare la Jean-Barth. Forse è stata una scelta un po' azzardata quella di cercare la Jean-Barth perché, come vedete, ancora una volta ho le AP. Devo ancora considerare bene AP, HE. Infatti qui vado a mettere le HE, però, insomma, dovevo metterle precedentemente. 2.400, 1.500, siamo 5 contro 6, ma fate conto che in realtà siamo 4 contro 6 perché la montana ha full vita, però continua ad allontanarsi dalla battaglia. Una corazzata che, non lo so, poteva cambiare... Guardate, e se visto adesso in questa inquadratura non sta facendo assolutamente nulla. Abbiamo catturato il settore di Charlie. Siamo 600 punti e 710. Dobbiamo affrontare praticamente davanti a noi un Yamato con 66.000 punti. Non so se mi spiego. E qui fate molta attenzione perché decido di fare una mossa molto, molto rischiosa, però anche doverosa. Siamo fermi in questa circostanza e fortunatamente qui la Yamato non ci guarda più di tanto. Ha i cannoni puntati, penso, sulla montana. Non sono molto sicuro. Io in questa circostanza sto guardando i cannoni della Yamato e anche la skill che mi avverte di quanti cannoni principali mi stanno puntando mi dà una mano molto, molto importante. vado a fare una virata pericolosissima. Se solo la Yamato mi avesse visto vi assicuro che mi avrebbe distrutto nel 90% dei casi. Fortunatamente non mi sta guardando. Abbiamo perso purtroppo la corazzata che è avanzata senza non so senza pensare alle conseguenze e abbiamo pur sempre una montana che non sta facendo assolutamente nulla all'interno della partita. Andiamo ancora con le HE non ci posso pensare veramente se la perdiamo per per colpa della corazzata potrei arrabbiarmi particolarmente. Abbiamo ancora le HE purtroppo e qui servivano le AP servivano le AP guardate come mostra bene la prua andiamo ad assorbire quello che possiamo abbiamo ancora le HE qui vedete ecco l'errore uno degli errori secondo me della partita è stato fare questo cambio quando i proiettili erano già a 8 secondi una cosa molto negativa che mi fa perdere ulteriore tempo contro la Yamato nemica andiamo a sparare le AP eccolo lì 21.000 la prua fa sempre molto male la Yamato grosso calibro siamo saliti a 194.000 danni possiamo stiamo recuperando la vita per nostra fortuna anche qui le armi secondarie fanno qualcosa fanno qualcosa le armi secondarie siamo 3 contro 5 la nostra Montana anche dalla minimappa si vede che non è posizionata bene perché sta mostrando il lato alla Jean Bart quindi già da questo punto di vista è in errore mancano 4 minuti alla fine della partita 194.000 danni lui va a sparare le AP e qui vado a fare una giocata che conosco molto bene perché la faccio sempre con lo Zhao certo farla con lo Stalingrad risulta essere molto pesante molto difficile però è l'unica carta che posso giocare per cercare di sopravvivere ho 11.000 punti andiamo a fare un altro l'ennesimo incendio sul Yamato in questa partita posso diciamo la mia colpa secondo me è stata solo una non cambiare in maniera tempestiva i proiettili da HE a ad AP secondo me ci sono delle circostanze che potevano richiedere una diciamo un cambio più rapido e più intuitivo invece diciamo che ho perso del tempo molto prezioso a capire bene quale tipologia di proiettile utilizzare ecco secondo me questa è l'unica cosa che posso in qualche modo contestarmi qui vado al bordo della mappa però vi assicuro che non me ne ero per niente accorto che era arrivato al limite della mappa siamo saliti a 205.000 danni 205.000 ce la possiamo fare ancora una volta HE andiamo a mettere le AP 721 ad 803 qui l'ha chiamato la montana continua a subire tutti i colpi e molto probabilmente sta subendo anche i colpi delle armi secondarie della Jean-Bart situazione molto molto complicata mancano 3 minuti e la nostra montana sta per essere distrutta io purtroppo non posso recuperare più punti vita è una cosa molto negativa sono con circa 19.000 punti andiamo ancora una volta con le AP la Henry va a timbrare la montana giustamente l'avrà innaffiata con le HE 7200 qui in realtà il messaggio volevo scriverlo in chat globale perché era una montana con full vita ragazzi una montana con tutta la vita che è stata distrutta nel giro di 2 minuti se fosse intervenuto prima le sorti probabilmente sarebbero state diverse abbiamo ancora le AP e qui è l'errore che dico che ho fatto durante la partita è un errore molto molto grave perché qui vedete 3900 sono pochi danni rispetto magari a un incendio che potevo causare vediamo se sparo o cambio in HE no ancora non cambio qui l'errore è molto molto grave vedete 920 920 perché non metto le HE perché devi mannaggia tua perché non hai messo le HE siamo 234000 danni mancano 1 minuto e 40 secondi finalmente decido di mettere le HE finalmente decido di mettere le HE qui purtroppo siamo sotto nel punteggio 760 891 manca 1 minuto e 30 e l'unica cosa che si può fare è cercare di aumentare il danno massimo che posso fare in questa partita 3922 e la situazione inizia a cambiare finalmente arriva l'incendio se solo l'avessi fatto prima vedi gli errori devastatore devastatore molto bene continuiamo a sparare tutto quello che abbiamo tra l'altro quello lì mi spara da una distanza incredibile guarda lì ancora una perforazione senza incendio tempo di ricarica è sceso ulteriormente tramite la scarica di adrenalina la skill che deve essere sempre presente secondo me 743 dai un piccolo incendio 1486 siamo a 249000 danni mancano 45 44 secondi una partita ragazzi che secondo me poteva essere vinta fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate tra l'altro se non siete iscritti iscrivetevi al canale non vi scordate un bel mi piace e anche una bella condivisione per aiutare sempre più il canale a crescere nella descrizione del link trovate ulteriori ulteriori link se volete aiutarmi 255 un altro incendio mancano 20 secondi 19 secondi fammi salire ancora un po' siamo a 261 262 abbiamo sparato 263 8 secondi 2848 ragazzi a questo punto risultati posto scontro anche se minimo un miglioramento per quanto riguarda il danno massimo è stato fatto 274 contro il 271 precedenti ragazzi video terminato grazie per l'attenzione noi come sempre ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.